Questa ondata di violenze e di gesti vandalici e intimidatori da un lato costituiscono la prova che questo legame tra il detenuto e i suoi compagni esterni rimane e quindi tenderebbe a giustificare il mantenimento del 41 bis e dall'altro che lo Stato non può minimamente venire a patti o essere intimidito o dare anche il segno di essere intimidito da attività violente o minacciose. A titolo puramente personale posso dire che avendo condotto l'inchiesta sulle Brigate Rosse nel Veneto tra il 1980-1979 e l'82-83 e quindi in pieno terrorismo, io ero sempre, l'ho scritto all'epoca quindi è facile ritrovarli, cioè facile, anche se sono passati parecchi anni l'idea che io ho sempre avuto che di fronte alla violenza non si tratta personalmente a quell'epoca scrissi che di fronte al caso Moro bisognava seguire la linea della fermezza in questo all'epoca ricordo avevamo il conforto dei massimi rappresentanti della resistenza italiana da Leo Valiani al Presidente Pertini del Partito Comunista, ricordo il Ministro Umbra dell'Interno Pecchioli e di tutte quelle persone, ovviamente governative, che ritenevano che minimo segno di cedimento anche apparente o che potesse essere interpretato come cedimento dello Stato sarebbe stato fatale. Quindi la nostra linea politica, qui penso di esprimere, anzi esprimo il pensiero non solo di colleghi ma di quanto è emerso ieri sera nel Consiglio dei Ministri, è di una fermezza assoluta per quanto riguarda queste forme di intimidazione.